E continuiamo adesso subito, poi dopo facciamo una pausa per un canto, con un messaggio che parla della tribolazione, brevissimo, molto incoraggiante e bellissimo, un messaggio intitolato Cavalca l'onda. Fratelli, cavalchiamo l'onda, perché viene la tribolazione, però non dobbiamo essere affogati da tutto quello che succederà. Possiamo rimanere sopra le onde. Grazie Signore. Sì, ti ho dato delle foto lì che mi sono sentito ispirato a cercare, e qui abbiamo dei surfistiche, quei surf sulle onde, bellissima. Allora, Signore Gesù aiutaci, speriamo che siamo stati chiari. Allora, viene la tribolazione, viene, e fratelli, dobbiamo cavalcare l'onda. La tribolazione sarà come un grande tsunami, una grande onda che spasserà via tutto. Tutto quello, sai quando viene il temporale in un bosco? Dopo il temporale, dipende anche dalla potenza del temporale, vedi rami abbattuti, alberi sradicati, alberi colpiti dai fulmini. La tribolazione è la più grande tempesta politica di persecuzione che Gesù ha detto in Matteo 24, 21, 22, che sia mai successa e mai tornerà. Però, buona notizia, abbiamo Gesù, noi non temiamo la tribolazione. Perché? Perché se siamo nella volontà di Dio, i Suoi angeli saranno con noi. Dio fece galleggiare la famiglia di Noè e l'Arca proprio su quelle acque che distruggevano i malvagi. Quindi, l'acqua della morte per il mondo era l'acqua della vita per Noè. Ecco che Dio sa usare le cose in positivo e negativo. Quindi, l'acqua fu come una spada a due tagli, morte e presenza Dio, vita e salvezza per il popolo di Dio. Ora viene adesso un altro tsunami, ed è un tsunami di persecuzione. Ma noi possiamo cavalcare l'onda, se siamo nella volontà di Dio. E allora, noi siamo il popolo di Dio, dobbiamo imparare. Imparare a cavalcare nello spirito. Quindi, ciò che distrugge i pagani e il loro mondo, noi dobbiamo imparare a cavalcarlo. Personalmente, io ho visto, ho visto una grande onda. E questa onda stava per avvolgere tutta la terra. E la gente era lì davanti all'onda, a bere, a chiacchierare. Dire, ma domani sarà un giorno migliore. Come quando finisce un anno e dice, ah, speriamo che l'anno sia migliore. Chiediamo agli oroscopi. E io dico sempre, guardate che il prossimo anno sarà peggiore. Perché? Perché so che ci stiamo avvicinando sempre di più all'anticristo. E infatti, mi dispiace dirlo, ma avevo ragione. Ogni anno è peggiore. E non è che mi fa contento. Il mondo non fa niente per prepararsi nello spirito. Non comprende gli avvertimenti della verità di Dio. E l'onda si abbatte sul mondo. Va bene? Ed è grande distruzione. E poi ho visto anche come, appunto dicevo prima, dei surfisti, questi che fanno surf, che viaggiavano sull'onda. L'onda rugge e furiosa li vorrebbe travolgere, ma i surfisti rappresentano i figli di Dio. I loro occhi sono rivolti su di Lui, sul Signore. Ascoltano la Sua parola. La ubbidiscono. Sanno cosa fare. Dio ha dato loro tutte le istruzioni necessarie. Loro le seguono. E l'onda non può fare nulla. La sua stessa forza che distrugge altri e la salvezza di quelli che la sanno cavalcare. li trasporta. E Dio usa la stessa onda che il nemico intendeva a morte, la usa per salvarci. Come è scritto in Salmo 40. Ce l'hai, Angela? Salmo 40, 1 e 2. Ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia. ha reso sicuri i miei passi. Salmo 40, 1 e 2. Grazie, Signore. C'hai Lamentazioni? Sì. Ti prego. Lamentazioni 3, 52 a 58. Quelli che mi sono nemici senza motivo mi hanno dato la caccia come a un uccello. Hanno voluto annientare la mia vita nella fossa. Mi hanno gettato pietre addosso. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Ma io ho invocato il tuo nome, oh Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. Lamentazioni 3, 52 a 58. Gloria al Signore. Grazie per le Tue parole. Allora, fratelli, impariamo a cavalcare l'onda. Sta arrivando l'onda. Sta arrivando lo tsunami dell'anticristo, fratelli. Persecuzione, distruzione. Il Signore ci ha dato un sacco di avvertimenti. Avevo detto che la pandemia era un avvertimento. Sì. Delle persecuzioni. Sì. Non ti chiederanno solo in casa, ma nei container, nei campi di concentramento. Questa guerra in Ucraina è un altro avvertimento. Un altro segno dei tempi. è una profezia che Gesù mi ha dato e ve l'ha condivisa con voi. È che in questo momento il diavolo sta seminando i semi per la prossima guerra. La prima guerra sono stati i semi per la seconda guerra. Dove hanno cominciato a usare le atomiche. l'odio. Ha trattato male la Germania. I semi che hanno provocato la seconda guerra mondiale. È stata provocata dei semi della prima. Adesso in Ucraina stanno seminando i semi per le prossime guerre che verranno. Credibile l'odio che stanno seminando. Numero uno l'America. È sempre la prima colpevole da mezzo secolo a questa parte. Grazie Signore Gesù. Grazie Gesù. Bene. E questo è il messaggio. Dio vi benedica. Cavalchiamo l'onda. Dio ci aiuti. Ascoltiamo il canto di Hebron. Passa altrove. Perchè gridi così forte? Credi non ti abbia sentito. Ho ascoltato il tuo grido. E sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le pende. Da tuoi occhi e guarda il miracolo che di fronte a te. E impedirei il mare aperto. Passa altrove insieme. E senti questo vento. Lo mando per guidare te. Perchè gridi così forte? Credi non ti abbia sentito. Ho ascoltato il tuo grido. E sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le pende. Da tuoi occhi e guarda il miracolo. che di fronte a te. E impedirei il mare aperto. Passa altrove insieme. E senti questo vento. Lo mando per guidare te. che di fronte a te. Passa altrove insieme. E senti questo vento. Sento questo vento, lo mando e te cuidare.